buongiorno a tutti non ho fatto un preavviso però ho deciso di fare questa live velocemente tra un consulto all'altro e tra un lavoro all'altro da noi oggi veramente una giornata si può dire non con il tempo bellissimo però a me mi piace perché mi ricarico con tempo così dunque io vi volevo dire alcune cose che sono molto importanti per tutti voi voi sapete che io vedendo le cose in giro e ovviamente non sto zitta parlo e attiro contro di me e mi rendo conto che io sono consapevole di quello che attiro contro di me perché vado contro il lavoro contro guadagno contro guadagno delle persone che hanno creato un guadagno sulla sulla magia quindi facendo mettendo la magia come un business a noi chi veramente pratica queste cose non ci piacciono e per questo io ho messo più di un video dove ho provocato verso di me accanimento perché come avevo detto le streghe hanno un'altra destinazione in questa vita e non e non fregare soprattutto fare i soldi sui problemi degli altri ovviamente loro devono mettere nel pagamento i loro consulti perché loro lavorando per voi 24 ore perché sono 24 ore perché vi assicuro sono 24 ore devono andare non possono lavorare dall'altra parte perché è impossibile anche solamente se anche io vorrei lavorare dall'altra parte non potrei farlo perché nessuno mi terrebbe lavora al lavoro io ho dormito due e tre ore la notte notte prima quindi uno deve anche avere da qualche parte entrata per per vivere però non arricchirsi non fare chissà quanti soldi e stavo dicendo riguardo le cartomanzie facendo consulti con le persone mi sono resa conto che ci sono tanti pericoli che le persone non lo sanno e vanno a rischio vanno a correre questo rischio perché le persone non si rendono neanche conto che cosa è una stesura delle carte la stesura delle carte non è semplicemente prendere le cartoline qualsiasi non parliamo già dei tipi di carte ci sono t carte più forti ci sono carte meno forti ma qualsiasi carte comunque ogni mazzo di carte è un egregore prendendo questo questi carte in mano ossia prendiamo noi in mano o andiamo da da qualcun altro noi già mettiamo ci mettiamo in contatto con ogni entità sulla carta ad esempio guardate abbiamo qua nove delle spalle secondo voi che cosa è una semplice carta con un uomo che soffre gli incubi sul letto voi la pensate veramente in così veramente la pensata ma voi sapete di che tipo sapete che ogni carta c'è una entità un nome delle entità dell'astrale a quale voi prendete prendendo in mano questa carta già vi state collegando con questa entità prendendo in altri tipi ogni ogni carta c'è un'altra entità quale voi state già contattando per paragonare è come se voi andate a prendere la tavola ouija solo che qui si lavora tramite l'immagine non è per caso se fanno diversi tipi delle carte o queste o rider white o quello di alistair crowley o le carte delle ombre non è semplicemente loro cambiano immagini giusto perché rimangono sempre i bastoni ad esempio elementi di fuoco giusto perché dovete chiedere perché ma perché ogni carta è un codice è una entità con quale noi andiamo a contattare creando i corridoi in questo momento quando stiamo facendo le carte primo pericolo questi cartomanti che fanno le carte online e quando ci siete tante persone a chiedergli domande 99 per cento questi cartomanti non hanno nessun collegamento con queste entità che abbiamo nel mazzo delle carte perché vi spiego subito quando tu prendi una persona e fai colloquio o telefonicamente o la persona davanti a te tu crei un corridoio tra questa persona e te stessa tramite queste entità tu entri nel suo campo entri nel campo di questa persona con queste entità per questo io dico io ai bambini non li faccio le carte ai bambini piccoli adolescenti carte meglio di non fare perché loro sono molto più sensibili con meno protezioni entrando con le entità del basso astrale anche se fanno parte di questo egregore noi portiamo lo sporco dentro loro campi sottili campi energetici ok quindi assolutamente vietato a fare le carte ai anche adolescenti dopo facendo entrando avendo cliente avanti come lo chiamano loro cliente eccolo per loro cliente sta seduto tu che cosa fai leggi le carte alla persona crei il corridoio come ha detto crei il corridoio una volta hai creato il corridoio queste entità te sanno che si mettono in una maniera le carte le carte che te lo sanno raccontare perché perché loro si trovano nell'astrale loro vedono tutto non ci sono le barriere lì loro vedono il tempo perché il tempo costruito come dei strati passato presente il futuro loro stando nell'astrale questi strati possono vedere molto facilmente quindi loro con tramite le carte non possono parlarti con la voce chiaro vigenza ci hanno quelli che anche senza le carte per questo io quando avevo prometto avevo detto a baccalauro vieni nella diretta io non prenderò per due o tre giorni le persone non faccio i consulti facciamo senza le carte senza rone facciamo una battaglia del genere che è che lei ha rifiutato non ha voluto assolutamente partecipare perché con le carte se usano noi usiamo le carte per non sprecare tanta la nostra energia perché la connessione tu puoi avere o tra nelle carte con queste entità o tra le rune con queste entità io vi dico la mia bisnonna lei era capace tramite i fagioli però non erano fagioli voi li chiamate fave mi sembra lei lo faceva così lei buttava e raccontava con come noi raccontano con le carte perché da noi non c'erano le carte questi tarocchi è una cosa che entrata adesso dovete sapere soprattutto nel paese slavi nel paese slavi c'erano un altro tipo di chiaroveggenza oppure tutti con me ti senza nessun aiuto senza ad esempio le carte senza le rune da sola usando la tua connessione quindi tu spendi più energie possibile molte energie per vedere una persona e questo succede nei casi extra estremi quando ti trovi in mezzo a nulla e hai bisogno di vedere quindi tu cerchi di usare la tua energia la tua chiarovegenza per verificare certe cose oppure se usa la tavola ouija oppure se usa il pendolo sono tutti i mezzi per contattare a queste entità tutti i mezzi quindi voi perché quando voi studiate voi andate creare il cerchi giusto perché voi create il cerchi di protezione perché mettete protezione addosso perché usate amuleti sempre per le protezioni ogni volta quando ci si fa a una persona lettura delle carte io prima di mettere e fare la stesura io creo una protezione un corridoio con quale io entro con il mio scudo avevo già insegnato alcuni alcun tipo delle scudo anche all'aperto però nella scuola chiusa andremo a parlare di questi scudi più precisi perché non vado adesso a dare a questi qua tipo baccalauri non li vado a insegnare a loro perché non si meritano le conoscenze così dopo li usano malamente a ogni prima di leggere ogni persona ci si crea uno scudo una volta avete finito di leggere la persona ci si chiude con loro corridoio altrimenti voi rimanete attaccati e se voi rimanete attaccati le vostre energie continuano a sprecarsi oppure potete lasciare il corridoio che da quella persona che magari può avere problemi questa negatività può venire da voi quindi ogni volta che voi avete finito la lettura voi chiudete con questa persona rapporto chiudete il corridoio in più ci si fanno le paga anche ecco perché pure i consulti devono essere pagati perché non pensate se voi leggete le carte e potete rimanere così come se fanno le ovviamente io non esco dopo ogni consulto a fare la paga però se io cammino per strada e c'è un bisognoso io li lascio i soldi oppure passo davanti una casa di un anziano che si trova in difficoltà gli metto dentro la cassetta della posta 10 pound ci si lasciano le paghe ci si chiudono i rapporti tu hai fatto consulto con la persona chiudi con quella persona questi qua che stanno su internet e vi fanno delle letture di tutte queste persone che si collegano con loro secondo voi cosa succede questa persona che legge le carte apre e chiude il corridoio e davanti ognuno prima di ognuno e dopo ognuno ma voi sapete che prima della lettura la strega deve essere pulita personalmente prima è un deve essere una igiene a mille cioè io prima di entrare nel biocampo di una persona devo essere pulita io noi di solito siamo puliti perché noi abbiamo le nostre protezioni già naturali ma questi qua che stanno di lì a fingere di fare le carte secondo a voi aprendo tutti i corridoi e metti che legge anche dieci persone voi vi rendete conto mischiuglio di energie che fa e sa questi tra queste dieci persone una delle persone ci ha avuto la fattura ad esempio mettiamo il caso che questa persona adesso partecipate nella live dove vi leggono le carte e una tra quelle dieci persone che partecipano nella live stata letta prima o leggeranno dopo ha una fattura addosso però intanto questa finta cartomante vi apre il corridoio verso di voi e verso quella persona fatturata loro non chiudono io ho partecipato ieri guardato non ho commentato ho guardato ieri una cartomante che faceva questi lettura delle carte nella live loro aprono tutti i corridoi e vi lasciano connessi vi contaminate e come buttare una persona sana mezzo al mucchio delle persone che stanno male e di solito ricordatevi questi posti dei cartomanti questi finti cartomanti vanno a vedere le persone che hanno dei problemi perché parlamoci chiaro chi ci sta al canale della stregoneria chi ci stanno sui posti dove fanno le carte le persone che hanno problemi cercano di risolvere non è che che uno sta bene c'è il business che gli va benissimo la moglie perfetta i soldi che entrano sta di lì sui canali dei cartomanti parlamoci chiaro per favore non dobbiamo essere ipocriti non è così è così sono persone con i problemi quindi voi vi buttate nel mucchio con le persone dei problemi vi fate leggere le carte allora è la vostra scelta se voi volete stare lì e contaminarvi dalle persone che ci sono mezzo voi avete libero arbitrio però una volta voi avete questa informazione come vi sto dando io e voi non vi proteggete da soli da questo schifo allora la colpa è solamente è la vostra volete che vuol dire che andate alla ricerca alla ricerca perché la cultura di protezione in italia purtroppo non c'è io sto vedendo di tutti i colori di tutti i colori che la base base che dovrebbe essere soprattutto questi qua che leggono le carte loro vi assicuro non sono capaci loro solamente vi dicono il significato delle carte finisce lì perché se loro ci avevano la chiaroveggenza davvero se loro erano connessi con le forze loro questi mucchiate delle persone al pubblico non farebbero mai prima che tu non sei una del mercato se tu sei una persona che lavora per le forze tu non hai tempo di sprecare fare questi live quelle carte indiretta secondo le forze non ti permettono a fare le cose del genere tipo al mercato a radunare la gente il terzo dove la protezione per te e per le persone che c'è intorno che li stai vedendo mette che qualcuno di quelle persone energeticamente più forte e tu veramente entri con le tue mani sporchi dopo che ci hai guardato dieci persone prima entri nel suo biocampo ti sei purificata hai chiuso il portale di quelle di prima come fai rispondere prima patrizia dopo a sveva la viviana come fai a rispondere a quelle persone lì perché prima prendevo come il gioco però io vedo che veramente le persone sul serio ci credono che possono risolvere i loro problemi andando su queste letture delle carte così di massa guardate che è un problema grosso quello è un problema enorme voi andreste nel pozzo non posso stagno di feci a fare il bagno quelle persone che partecipano a queste letture di massa entrano da soli dentro lo stagno pieno di cacca ecco cosa voi state facendo prima cosa seconda cosa le letture di carte se fanno raramente raramente perché andare ogni volta a stuzzicare il vostro destino voi fate in verrucci in ferrucci contro di voi le forze del destino non si leggono soprattutto le ragazze che non sono sposate che vogliono andarsi fare una più andate vedere appena conosciuto qualcuno già subito posso vedere come andrà andrà male tutte deve fidare al destino smettete di dare da mangiare a questi cartomanti e rovinarvi con le vostre mani non possono costare consulti 100 euro non possono costare 100 euro quando consulto arriva al massimo 50 euro basta perché quelli che mettono consulti così alti vuol dire che vi fregano una volta e dopo e tanto gli basta anche quello fregate dieci persone tanta ha fatto il mese che cosa pensate che vi dirà durante il consulto una vera strega non andrà mai a spaventarvi che voi avete di chissà quali problemi addosso e se non ne ripulite non vendete l'oro della casa tutto quello che avete non sarete salvati una vera strega entrerà poco alla volta per dire guarda fammela questa protezione purificazione rispedisci mi la foto io riguardo anche vede i problemi grossi non vi dire mai in faccia perché ci sono noi siamo anche delle psicologhe ci sono le persone che si possono anche suicidare tentano i suicidi mai è come un dottore che scopre una malattia grave a una persona e va a dire ma lo sai tu vai a morire tanto vai a morire 100% se tu non mi paghi io non ti faccio queste cure usate la logica usate la logica sempre la logica puoi leggere le carte ai sanguini se voi avete perché tanti di voi hanno comprato le carte e provano di leggere le carte ai sanguini quando voi entrate create questo corridoio con altra persona estranea che dell'altro tipo perché sanguine perché sangue energia il valore molto alto nella stregoneria voi create il corridoio con altra persona che estranea è facile di fare lo scudo più facile fare lo scudo contro una persona estranea se voi entrate a vedere il suo sanguigno la stessa energia il corridoio e le forze con quali voi lavorate non percepiscono delle delle barriere per loro è unica cosa sola quindi qual è il rischio se il vostro caro del sangue mamma sorella fratello la figlia ha qualcosa addosso voi la prenderete e come dentro ecco mettete dentro una una bottiglia mettete l'acqua e guidete con con il tappo e dopo fate questa bottiglia così rovesciate la destra a sinistra l'acqua va l'acqua non percepisce dove il tappo dove il fondo della bottiglia va su e giù perché la bottiglia è unica cosa sola questo corridoio voi siete unica cosa sola la bottiglia unica cosa solo con il tappo in fondo della bottiglia quando voi guardate sanguigni o tutto quella negatività che avete voi passate al vostro caro o negatività dal caro molto facilmente anche se avete scudi addosso perché noi non guardiamo mai i nostri cari perché noi non purificiamo i nostri cari i praticanti proprio per questo motivo la terza cosa non date mai il vostro sangue vostri capelli a questi buciotti ai cartomanti se voi volete sapete che è una purificazione come a me la gente spedisce le magliette lo sanno che è una purificazione potete dare il massimo la maglietta vostra che avete dormito tre notti ma se a voi vi chiedono di spedire il sangue soprattutto per i ligamenti guai guai chi lo fa una cosa del genere se io scoprirò dopo tutte queste cose che io vi sto insegnando che voi state facendo le cose del genere state spedendo il vostro biomateriale ai bastardi dell'internet che dopo vi vanno a ricattare io vi blocco io giuro che vi blocco perché io ho avuto ieri il caso che la persona che sta seguendo i miei video tutti i giorni ha spedito a questi non lo vuoi neanche pronunciare come si chiamano il sangue per fare il rituale allora che vi parlo a fare che cosa vi parlo a fare io perché non ho il tempo dove sprecare il fiato o perché voi voi non vi fate del male che non cascate nelle mani di questi elementi e credetemi loro non lo fanno semplicemente perché sono ignoranti loro fanno per c'è un perché lo fanno adesso ci sono le sette intere che stanno sviluppando in questo periodo che la stregoneria cresce state attenti state attenti perché io vedo di tutti i colori dopo vi farò anche un'altra diretta separata a riguardo vendita l'anima del diavolo questa dobbiamo assolutamente a parlare perché c'è tanta gente che ascolta il video dei baccalauri della millesimo livello di stregoneria dove ci si parla delle vendite delle anime e dopo la gente crede che è una cosa semplice e conveniente tra l'altro quando vi parlavo delle protezioni quelli con i barattoli io non anche sapevo ieri ma ce l'avevo una persona ieri il consulto che mi ha detto che addirittura il baccalauro ce l'aveva tutto il video come chiudersi dentro un barattolo ha cancellato quel video vedete vedete che le cose io non sapevo di esistenza perché credetemi io non ho il tempo guardare io registro i video diretti ma anche li riascolto quelle che faccio io mai perché chi c'ha il tempo ieri sono andata a letto alle 3 e mezza sono svegliata oggi alle 6 chi ci riguarda il video però cancellando il video vuol dire che ha capito che comunque è stata sgammata vedete se uno mi dice Lilia tu hai dato rituale però sul tuo rituale c'è un errore io andrò a vedere dove è sbagliato io andrò a spiegare se era un errore o voi avete capito come è un errore ad esempio come io ho fatto ho fatto vedere il video del pentagramma come ci si carica l'amuleto e dico che si fanno in senso orario però con video quando vuoi adesso sono io ho imparato perché adesso tengo il telefono come se deve una volta era il telefono rigerato quindi registravo con un'altra camera quindi ovviamente il telefono fa vedere tutto in contrario perché all'inizio non erano anche capaci di registrare per bene e quindi alla persona sembra che gli dico una cosa faccio un'altra perché infatti il telefono era registrato dall'altra camera da quella di davanti quindi io vi supplico stateci attenti soprattutto nelle cartomanzie non partecipate a questi cartomanti che fanno nella live pericolosissimo non andate a mischiarvi con tutta l'energia negativa delle persone dopo è per i praticanti nel gruppo nella scuola chiusa io vi darò tutte le sicurezze e protezioni come se apre il corridoio come se metto lo scudo come si chiude il corridoio come si chiude perché se voi non chiudete connessione con la persona la sapete quanta energia potete perdere andando avanti così lasciato il corridoio aperto anche quando io lavoro con le persone io perché le metto dopo che vengono da me fanno purificazioni perché le metto alla fine le protezioni una volta purificati che così chiudo con me collegamento altrimenti saranno sempre connessi con me sono queste piccole però per voi non servono le persone normali io parlo per le persone che praticano però persone normali che non praticano partecipano a queste ammucchiate delle letture delle carte pericoloso non partecipate per favore e se partecipate dovete essere consapevoli che state facendo il bagno dentro lo stagno con un sacco di negatività siete tantissimi siete 60 persone non pensavo neanche io ho fatto perché è molto più facile per me dopo caricare su YouTube carico anche su YouTube vi saluto a tutti e dopo vi darò delle mi sono fatto tutta la lista per dirvi le cose però non voglio mischiare argomenti se no non finisce mai il discorso ah poi quello che mi è successo adesso vi racconto giusto due parole cosa mi è successo giusto per parlare delle persone voi non dovete credere che tutte queste persone quelle che voi vedete in giro quelle che fanno vedere le pratiche ritualistiche che vedranno c'è sempre un perché le persone sinceramente l'unica cosa che li interessa è loro stessi i loro guadagni dovete sapere questo perché è tanto così che funziona io ho avuto la prova siamo usciti ho portato la mia bambina che non ci sto mai con lei era una bellissima giornata con mio marito siamo andati al parco e di lì al parco c'erano pure mostra degli animali che li domestici quelli lì di razza e siamo andati a vedere lì usciamo da quella da quella mostra e proprio nel parco aperto era molto caldo io vedo come se due persone due donne ci si acciuffano però io sinceramente io pensavo che adolescenti quelle che già sono molto grandi che giocano tra di loro invece no c'era una donna una ragazza sul vent'anni che si è buttata addosso l'altra gli menava di brutto e quella urlava aiuto aiuto help però nessuno nessuno di tutte quelle persone che erano intorno nessuno non ci si è buttato ad aiutarlo io non mi ricordavo manco nulla unica cosa che mi ricordavo che il mio marito mi urlava dietro Lilia ferma perché tra tre secondi io ho già mezzo al mucchio quelli che semenavano in tre secondi io ho già mezzo solo che io cosa potevo fare che quella donna quale sta salita era sotto quella grossa enorme che ci avrà pesato centoventi chili si era seduta sopra e con tutto la rabbia gli strappava capelli proprio strappava i capelli con i pugni dava i pugni più gli strappava i capelli io ho mai visto perché ho visto che semenavano non si strappavano i capelli ma che rimaneva il sangue in testa che testa praticamente rimaneva ecco così solo con il sangue gli toglieva il scalpello a pezzi io ho mai visto una cosa del genere e che cosa potevo fare io 50 chili contro quella che pesava centoventi chili mio marito arrivato ha preso quella donna e l'ha buttata dall'altra parte e io ho cominciato a strelare cosa stai facendo io chiamo la polizia perché io non sapevo se quella ce l'aveva un coltello non si sa mai chi sono giusto puoi essere una drogata e ho cominciato a scappare in mezzo il cispuglio quella donna a quale è stata aggredita voi non vi rendete io non ho mai manco mi sono avvicinata perché talmente si sbatteva per terra dalla paura e dal terror che c'ha avuto che lei era tutta la testa coperta di sangue senza capelli tremava talmente tanto che se io mi avvicinavo mi portava via anche la pelle da quando era spaventata poi io ho visto al secondo quando io correvo verso lì per qualche secondo quella che è stata aggredita come era persa i sensi era svenuta già quindi io ho intervenuto spontaneamente mi sono buttata al mucchio mio marito visto a me che io stavo già lì ha corso e buttata via portata via quella donna l'ha tirata fuori l'ha tirata via però nessuno il parco che c'era tutta quella gente non si è fatta avanti nessuno ricordatevi nessuno c'era la gente che passeggiava con i figli c'era gente che è sdraiata sull'erba c'era la gente che passeggiava con i cani tutto tutti a guardare lo spettacolo tutti quanti questo è il mondo in quale noi viviamo io ho detto Emanuele Emanuele se tu non intervenivi quella donna perché io cosa potevo fare cosa potevo fare io contro quella bestia che era enorme se tu non intervenivi quella donna sarebbe morta oggi perché sarebbe morta perché lei gli dava i pugni in testa se beccava il timpano l'avrebbe uccisa ed è quello che vi sto dicendo non vi dovete fidare di quelli intorno perché la gente vi vedrà di uccidere perché ci sono i praticanti che lo so che lo sanno che queste pratiche delle carte non si fanno così miscuglio e stanno zitti invece non sto zitta perché loro stanno zitti se lavano le mani io non stando zitta attiro addosso a me tutti quelli che le fanno e ve lo sapete che tanti che lo fanno queste carte così al pubblico io rischiavo adesso dopo io dopo ho chiamato subito la mia mamma credetemi io ma la mia voce non riuscivo neanche a parlare e detto io mi sono buttata manco mi sono accorta io non mi sono accorta di essere già lì mi è venuto istintivamente come sto facendo istintivamente a insegnarvi le cose ma potevo rischiare quelle mettette che tirava fuori il coltello ma poteva succedere qualsiasi cosa che ne sai chi era quella donna che ha attaccato tu che ne sai però io non ho ragionato chi era quella donna mi sono buttata e basta la stessa cosa sto facendo adesso con voi lo so che mi varanno addosso io lo so questo lo so che continueranno un'altra volta a minacciarmi con le fatture di morte ma tanto questa ultima cosa di che mi preoccupo appena alzano la mano contro di me o qualcuno contro la mia famiglia gli staccheranno con il braccio con osso con la testa però per dirvi il mondo è molto crudele dopo quando successo quando quella lì è scappata nel cispuio è arrivato tipo la guardia del parco e si è vicinata a quella donna come tranquillizzare e chiamavano non lo so chi chiamano secondo me l'ambulanza e dicevo io chiamo la polizia e lui mi diceva no no non chiamare perché questa qua quella che ha aggredito e non sta bene di testa è malata di quelli malati proprio di testa che stanno male con la diagnosi e quella donna che l'assistiva quella che è stata aggredita è una indiana una signora sui 50 anni bellissimi capelli lunghi mori gliela ha strappati tutti tutti gliela ha strappati con quella forza con la carne gliela ha strappati io dico ma che stato siete stato inglese perché non è prima volta io ho visto che questi qua che non stanno bene di testa che malati mentali li portano in giro allo spazio aperto dicevo ma se era un bambino se questo bue cadeva addosso a un bambino perché gli è venuto il raptus cadeva addosso a una donna incinta l'avrebbe ucciso perché li portate in giro qua in Inghilterra è un bellissimo paese però hanno questa cosa che loro questi malati mentali le fanno a spasso da noi in Russia in Ucraina ci sono i manicomi con i parchi i giardini dove li lasciano stare lì ma che è questa roba qui di portare questi matti in giro troppe volte l'ho visto camminano due uomini grossi con un malato mentale in mezzo e quel malato mentale ti guarda con gli occhi di vetro non lo sai cosa succede se ti attacca non ti attacca poi dal punto di vista dei medici voi lo sapete che loro ritengono una malattia che è psicologica che non si cura e però dal punto di vista esoterico noi vediamo queste persone come possessioni possedute quindi entità quelle che loro li portano dentro il loro corpo hanno bisogno di nutrirsi sempre di negatività quindi loro molto spesso scattano quelli pericolosi perché scattano perché questa entità hanno bisogno del cibo creare i nervi sofferenze paura e loro li portano in giro come se fossero i cagnolini in guinzaio però vai a tenere 120 chili e mi hanno detto che quella donna indiana era la sua badante però si vede che hai detto qualcosa di no e quella li ha attaccata in quella maniera solo che nessuno non ci si è alzato per aiutare nessuno io ho dovuto andare via perché aveva come pure la bambina mia che ha piccola 22 mesi guardava con tutti gli occhi spalancati spaventata che io quando ho visto questa cosa l'ha messa bambina per terra e sono messa a correre sono stata pure poco intelligente perché la bambina era rimasta quella per fortuna che c'eravamo pure l'amica la mia amica è rimasta guardare la bambina io ho corso verso quelli due che si azzuffavano stateci attenti usate la vostra intelligenza e non buttatevi così mezzo a questi qua cartomanti che fanno queste letture delle carte perché loro non se ne fregano di voi voi dovete pensare a voi stessi della vostra protezione soprattutto le donne che avete dei figli piccoli ancora sotto di voi figli fino a 14 anni più o meno sotto la vostra energia sotto la vostra protezione lasciateli stare questi cartomanti lasciateli stare vivete la vostra vita che vi assicuro il 90% dei problemi si possono risolvere senza magia non vi preoccupate la magia serve per altre cose per questo le streghe così sono poche sul mondo quelli veri perché non è che ci sono tutti quelli casi di stregoneria da risolvere e se ve lo dicono che è così vi prendono un giro solo per succhiare i soldi ok vi lascio signori che adesso ho il consulto fra un po' è stato un piacere ricarico il video anche su youtube per mettere la gente un pochino più in guardia a tra poco